benvenuti il video giornale di oggi mercoledì 3 di febbraio potrebbero essere ben 3.200 le imprese a rischio default nel 2021 di cui 1.100 a causa delle restrizioni dovute al covid ad annunciarlo la cna marche e la confartigianato marche che hanno cercato di fare il punto sulla difficile situazione che il comparto economico locale sta vivendo secondo le associazioni nell'ipotesi peggiore saranno 4.100 le imprese che rischiano di non superare i prossimi 12 mesi di cui 2.000 a causa della crisi pandemica cambiamo argomento artigianato sindacati denunciano ritardi nel pagamento degli ammortizzatori sociali dopo la manifestazione del 21 di luglio e le altre iniziative mosse nel corso del 2020 ci troviamo nuovamente a dover intervenire per denunciare i gravi ritardi nel pagamento degli ammortizzatori sociali alle lavoratrici e lavoratori dell'artigianato affermano linda bracalente filtem cgl di fermo e francesco interlenghi femcacisl marche inqualificabile comportamento dell'asur nella vicenda dei cani di tre castelli la parlamentare patrizia terzoni dice ho scritto alla procura questione mal gestita le strutture nazionali prendano in mano la situazione questione che deve essere seguita per anni in maniera adeguata cambiamo pagina gruppo società e ambienti di senigallia confronto con la nuova amministrazione comunale una partita difficile gli abbattimenti di due grandi pioppi di via dello stadio ci riporta ad una pratica e una continuità che speravamo superate il gsa continua ad essere disponibile al confronto chiedendo un reale ed effettivo cambio di passo l'otto febbraio è la giornata internazionale dell'epilessia nata per sensibilizzare su una malattia neurologica tra le più diffuse a livello mondiale ma ancora poco conosciuta le persone colpite da epilessia circa 500 mila in italia e oltre 50 milioni nel mondo spesso devono ancora combattere contro pregiudizi e discriminazioni il comune di sera dei conti ha deciso di aderire a questa giornata ed illuminare del colore viola la torre civica a partire dalle ore 17 l'unione regionale cuochi marche nelle persone del professor luca santini e simone baleani hanno partecipato ad un evento live svoltosi nella sede della federazione italiana cuochi di roma in collegamento con expo fiera riva del garda tema guida ridurre lo spreco alimentare e adesso lo sport domenica 31 gennaio dopo un lungo periodo di stop forzato a causa del covid 19 a senigallia si è svolta la prima regata velica della classe laser ilca della regione marchi la regata è stata organizzata dal club nautico di senigallia la competizione valevole come selezione nazionale ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi circoli delle marche e dell'emilia romagna 68 i concorrenti iscritti e siamo adesso alla foto del giorno lo scatto di oggi è di mauro gasparini dal titolo luci ed ombre le previsioni del tempo di giovedì 4 febbraio sulle marche eccoci con cielo in prevalenza nuvoloso per l'intera giornata non sono previste piogge la temperatura massima registrata sarà di circa 15 gradi la minima di circa 8 i venti saranno moderati il mare poco mosso grazie per averci seguito l'appuntamento come sapete per domani e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale youtube senigallia notizia vi aspetto l'app senigallia notizia è ora disponibile per iphone e dispositivi android i nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti con la nuova app di senigallia notizie gli avvenimenti i fatti e il telegiornale di senigallia sono a portata di mano